Nuovo record per l'Ajus che porta a 17 le vittorie consecutive in altrettante partite nel campionato regionale di serie di Girone B. Di fatto, le ragazze iussine hanno ipotecato il trionfo finale in campionato, distanziando di ben 9 punti la seconda in classifica, la polisportiva Remo Masi-Rufina. Contro il Pian Disco, quinta della classe, sconfitta anche all'andata al tie-break, l'Ajus ha sfoderato ancora una volta una magistrale prestazione, chiudendo i conti con la temibile formazione bianco-verde in poco più di un'ora. Troppo forti le ragazze di Fiorella di Leone che hanno approcciato l'incontro con l'adeguata motivazione, superando le ospiti in ogni fondamentale. Eloquenti i parziali, chiuso a 17 il primo con una spettacolare bomba dal posto 4 della possente Nataletti, il secondo a 16 con un beffardo pallonetto di Chiara Borgogni, il terzo più combattuto per un comprensibile calo fisico-mentale dell'Ajus dopo l'enorme vantaggio iniziale, si è chiuso sul 19-11. La Sara ha una bella partita, a chi si dedica questa partita? A tutta la squadra, alla società, siamo contenti di questo traguardo e bisogna continuare così fino alla fine. Bravi tutte, insomma, chi è entrato dopo ha fatto il suo, è stata brava, quindi siamo tutti contenti. Troppo forte l'Ajus o troppo debole il Pian Disco? Troppo forte l'Ajus. Dopo 17 turni si può chiaramente dire le aspettative dell'Ajus? Le aspettative sono evidenti, nel senso che stiamo dominando, vogliamo continuare a dominare, non abbassiamo mai la guardia. Anche quando facciamo qualche cambio possiamo esprimere comunque una buona pallavolo, magari soffrendo un attimino di più, ma comunque l'importante è chiudere l'Isette e anche stasera l'abbiamo chiusi a nostro favore, quindi bene così. Il terzo non è stato chiuso a dovere, in quanto dal 19-12 siamo arrivati al 24-22. Sì, c'è stato un momento di rilassamento che tante volte purtroppo capita quando si ha la sensazione di aver chiuso la partita quando ancora in realtà non è chiusa questa partita. Quindi può capitare un calo di tensione, la sensazione della squadra avversaria che è all'ultimo spiraio possibile per provare un'eventuale rimonta, ci sta che eventualmente la squadra avversaria sembra stia provando in qualche modo a resistere alle nostre forze. La cosa importante è chiudere comunque il set e quindi alla fine abbiamo chiuso anche questo.